Lei, lei ha guarito un uomo di nome Panborn che era paralizzato. In un certo senso. Lo ha fatto camminare di nuovo? Sì. Come ha fatto a correggere una lesione spinale totale C7-C8? Io non l'ho corretta. Non poteva camminare. L'ho convinto che era in grado. Quando riallaccia un nervo lesionato, è lei a farlo rimarginare o il corpo? Le cellule. E le cellule sono programmate per autoripararsi in modi molto specifici. Esatto. E se le dicessi che il suo corpo può essere convinto ad autoripararsi in molteplici modi? Va bene, come si fa? Da dove cominciamo? Non è di suo gradimento? Oh no, è bellissimo. È solo che insomma l'ho già vista. Nei negozi di souvenir. E questa qui invece? Agopuntura, bene. Questa qui? Mi mostra una risonanza magnetica. Lei guarda il mondo dal buco della serratura. Ha impiegato tutta la sua vita cercando di ingrandirlo. Per vedere di più, conoscere di più. Ed ora, nell'apprendere che si può ingrandire in modi inimmaginabili, rifiuta la possibilità. No, la rifiuto perché io non credo in quelle favole sui chakra, o sull'energia, o sulla potenza della fe. Non mi venga a parlare di spirito. Sono io che vedo dentro di lei!